Dicevamo governance, ma dicevamo anche quindi gestione del dato, informazione lungo la filiera, capacità di tracciare questa informazione e quindi di portare a una connessione, a un dialogo tra soggetti lungo la filiera o da parte delle imprese. Io sto a lasciare la parola agli amici di BISEM, Valentina Cavenaghi e Andrea Fiume, consulenti, provider di soluzioni anche loro per la tracciabilità delle catene di pubblicamento e di fornitura. A voi la parola, grazie. Grazie, grazie a te, grazie a tutti e grazie a Sopellettieri soprattutto per l'invito con cui ci lega una partnership ormai da anni, quindi siamo molto contenti di essere qua e di potervi tranquillizzare che comunque la tecnologia vi verrà di sicuro in aiuto e finalmente ci sarà un rovescio della medaglia che riusciamo a trovare una quadra. Io sono Andrea Fiume, sono il fondatore di BISEMPLY, sono qua oggi con Valentina Cavenaghi che è responsabile commerciale di BISEMPLY dagli albori, quindi dal 2018, diciamo che sono molti anni che parliamo con tutta la supply chain fondamentalmente. Noi abbiamo realizzato una piattaforma che fa comunicare la supply chain con i brand tendenzialmente, quindi cerchiamo di fare in modo di semplificarvi la vita nella comunicazione, che non è solo esclusivamente sulla tracciabilità ma il vero scopo nostro è quello di riuscire a fare in modo che le informazioni che voi utilizzate e inserite dentro un sistema vengano usati da più brand e non dobbiate poi, come dire, rimetterli più volte o dedicarci troppo lavoro. Quindi l'idea è proprio quella di semplificarvi la vita il più possibile. Abbiamo cominciato dal 2017 parlando con una serie di fornitori veramente tanti in Italia, in Europa ma anche nel mondo e cercando di inquadrare quali erano le difficoltà. Tutto ciò è nato un po' da una mia esperienza prima di tutto familiare. Io nasco da una famiglia di imprenditori tessili e mio padre ha un brand abbigliamento da sci, quindi sono sempre stato veramente nel middle dei rapporti della filiera, finché poi mi sono trovato a fare il PM per dei brand abbigliamento e lì ancora di più, come dire, la mia sensibilità sul problema di comunicazione e carichi di lavoro che venivano spesso e volentieri caricati sulla supply chain in maniera anche ingiustificata se me lo passate, mi ha portato a cercare di capire se poteva esistere un modo per aiutare le aziende medio, medio, piccole che sono quelle che hanno più difficoltà nella gestione dei dati perché ovviamente, come dire, le aziende molto strutturate riescono a compensare queste problematiche e fare in modo che le informazioni non fossero utilizzate solo per la sostenibilità ma se le aveva bisogno anche l'ufficio amministrativo o l'ufficio produzione potesse a tutti gli effetti utilizzarlo. Io ho voluto fare, come dire, un po' questa panoramica generale per farvi capire che c'è una realtà che guarda, come dire, i piccoli produttori e cerca di capire quali sono le difficoltà e cerca poi di creare connessione. Tanto che poi nel 2022 abbiamo venduto a Deda Stealth, che per chi non lo conoscesse è l'RP leader sicuramente a livello mondiale per i brand di abbigliamento e quindi abbiamo unito un po' quello che era il nostro know-how, lato fornitori di vario tipo e la parte invece dedicata al brand che era ovviamente un loro know-how molto molto approfondito. Quindi il nostro focus tendenzialmente è quello veramente che adesso vi presenterà Valentina e vi farà vedere poi quali sono state le problematiche che abbiamo riscontrato e quali sono state le soluzioni che abbiamo a tutti gli effetti trovato che non sono nostre, sono frutto di un'analisi abbastanza approfondita, ecco devo dire. Quindi magari smetto di parlare che poi tedio sempre con i preamboli e vi lascio vedere un'analisi dettagliata che vi presenterà Valentina. Perfetto, grazie Andrea, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Come anticipato appunto da Andrea anch'io collaboro con B-Sempli dal 2018 e insieme diciamo che abbiamo visto e vissuto tutto il parco fornitori e abbiamo analizzato tutte le sfide e le problematiche che ha dovuto affrontare e che ancora tutt'oggi affronta la supply chain. Quindi andando un po' più rapidi, esatto, io oggi vi condividerò un po' quello che è lo spaccato di quello che l'industria del fashion è oggi. Quindi diciamo che noi ci siamo comunque basati sulla raccolta e l'analisi delle testimonianze dei nostri clienti, brand e fornitori ma anche su tutto quello che è stato il nostro vissuto e la nostra esperienza all'interno del settore stesso. Quindi diciamo che sicuramente abbiamo individuato che il primo grosso divario riguarda la comunicazione tra brand e i fornitori una comunicazione che spesso è frammentata e che è difficile da rintracciare e da ricollegare soprattutto in modo tempestivo e al bisogno ma anche ovviamente è importantissima la diversa fase di digitalizzazione tra i due player che impatta notevolmente sulla loro relazione. perché comunque effettivamente i brand hanno avuto fondi più consistenti lato tecnologia fin dal principio mentre la supply chain essendo la parte sottostante avendo anche marginalità differenti ha investito meno o comunque ha cominciato ad investire in tempi più recenti riguardo quest'ambito. sicuramente uno degli obiettivi è quello di fornire al compartimento dei consumatori il risultato che loro vogliono ottenere ovvero avere comunque una tracciabilità del prodotto più chiara e trasparente fin dalle prime fasi della sottrazione sino ad arrivare alla realizzazione del capo della calzatura e dell'accessorio finito questo perché comunque sono in atto importanti cambiamenti sia dal punto di vista culturale ma anche di conseguenza legati alla fase di acquisto che oggi avviene sicuramente in modo più consapevole. questo percorso ovviamente non è facile perché le informazioni richieste sono molteplici e spesso come anche diciamo noi la sostenibilità è un vero e proprio costo quindi non è una reale e semplice opportunità anche se poi si cerca di venderla come tale o comunque di sfruttarla giustamente in chiave commerciale di marketing e comunicazione. riguardo il punto 3 appunto che riguarda appunto la legislazione come ha ben spiegato Margaret nel suo intervento sicuramente leggi sulla tracciabilità e sostenibilità ci sono da sempre alcune sono più nuove altre in evoluzione o comunque in mutamento diciamo che tutto questo comporta complicazioni all'interno delle aziende e maggiore difficoltà comunque a stare al passo con i tempi ed essere subito allignati con quello che viene richiesto e in questo momento ben impreciso infatti spuntano tutti in aiuto questi tool e questi sistemi che supportano comunque le aziende a monitorare i cambiamenti riguardo al tema ed è proprio con la parola sistemi che mi riallaccio all'ultimo punto ma non meno importante che riguarda appunto l'ampia gamma di sistemi presenti oggi sul mercato dove spesso abbiamo visto anche noi che capita addirittura che all'interno della stessa realtà aziendale vengono utilizzati sistemi diversi dai vari dipartimenti che sia l'amministrazione, l'ufficio acquisti, l'ufficio compliance, sostenibilità e questi dipartimenti utilizzano quindi sistemi diversi per raccogliere le stesse informazioni e gli stessi dati aumentando di conseguenza notevolmente il carico di lavoro del fornitore e anche la sua efficienza operativa e il problema diventa ancora più visibile se pensiamo che ogni fornitore lavora con più brand contemporaneamente e quindi questa situazione si moltiplica e si replica n volte quindi diciamo che nella nostra conclusione, la nostra ideazione noi pensiamo proprio che si debba racchiudere questa raccolta documentale legata alla supply chain in un unico sistema quindi cosa abbiamo pensato, quindi cosa dovrebbe avere la tecnologia per poter aiutare la tracciabilità e tutta la filiera nel suo complesso sicuramente uniformare la digitalizzazione della supply chain è fondamentale quindi i vari attori devono comunque digitalizzarsi fare in modo di utilizzare ad esempio le anagrafiche, i dati delle anagrafiche o della sostenibilità anche per scopi diversi quindi come abbiamo detto prima perché così si fa sì che tutto non si trasformi solo in un mero costo ma anche in un'opportunità certamente bisogna fare in modo che ci sia un unico sistema alla base che funga da hub, quindi da connettore perché come si può vedere anche da questa immagine la situazione attuale è molto caotica avendo appunto come abbiamo già detto tanti sistemi diversi per la raccolta documentale è giusto comunque ribadirlo perché i sistemi essendo molto diversi tra loro creano altrettanti problemi alla supply chain perché comunque loro stessi non sanno in che modo muoversi, in quali tempi e quindi a tutti gli effetti comunque generano delle difficoltà ecco giusto su questo punto mi soffermo un secondo perché ad esempio qua a noi è giocato a favore appunto avere alle spalle stealth perché comunque significa avere all'interno di un sistema tutto il parco fornitore dei clienti branded da stealth questo fa sì che questo hub che noi stiamo comunque immaginando e stiamo cercando appunto di mettere a terra abbia anche commercialmente una certa credibilità e consistenza per essere realizzato e poi utilizzato l'ultimo punto porta al discorso che riguarda l'inefficienza operativa all'interno dell'azienda stessa perché comunque è evidentemente un problema che la supply chain appunto riceva dallo stesso brand tramite tool diversi le stesse richieste di informazioni quindi torniamo sempre al punto di partenza ovvero che un brand dovrebbe appunto utilizzare un unico sistema per raccogliere tutte le informazioni e poi interscambiarle all'interno di tutti i dipartimenti in un secondo momento bisogna stare molto attenti in questo anche perché questo sistema che stiamo immaginando funziona allo stesso modo anche sulla seconda parte della catena e quindi si creerebbero gli stessi problemi quindi tendenzialmente se un confezionista utilizzasse il nostro sistema sarebbe bene che anche lui stesso utilizzasse un sistema che racchiuda e raccolga tutte le informazioni che poi vengano divise all'interno del proprio team di lavoro in maniera tale da ottimizzare comunque le attività e il lavoro di tutti che viene sempre svolto un attimo sui vantaggi quindi noi abbiamo cercato di individuare quali sono appunto i vantaggi di una tecnologia unica un unico sistema di lavoro e che viene studiato in un unico modo quindi abbiamo sicuramente il discorso di una supply chain condivisa quindi cosa significa il fatto di avere i fornitori e la supply chain in un unico sistema fa sì che il fornitore possa riutilizzare le informazioni per lavorare trasversalmente con più suoi clienti brand fa sì anche che le informazioni possono essere appunto riciclate e quindi porta a non dover svolgere più volte la stessa attività che anche ad oggi viene svolta ancora manualmente sicuramente anche qui la sinergia tra dipartimenti perché sembra che siamo un po' ridondanti ma sono sicuramente informazioni molto importanti che devono assolutamente entrare a far parte del nostro DNA del nostro pensiero del nostro modo di lavorare e questa sinergia è fondamentale come anche la comunicazione tra gli stessi dipartimenti il terzo punto riguarda la libertà di innovare è un altro punto molto cruciale dove anche noi abbiamo insistito particolarmente forse a volte anche tarpandoci un po' le ali perché un sistema che abbiamo pensato appunto di progettare e che dovrebbe a tutti gli effetti esistere e che dovrebbe poi funzionare dovrebbe semplicemente fare la raccolta di dati di sostenibilità e di tracciabilità non dovrebbe né certificare né fare delle analisi su come migliorare la sostenibilità e quindi non dovrebbe nemmeno poi esporre il dato al consumatore finale questo perché ci troviamo sempre più spesso in un momento storico in cui le richieste e le esigenze cambiano molto rapidamente e quindi l'unica cosa certa che deve rimanere stabile è la raccolta dei dati con la propria supply chain perché pensate che non potremmo permetterci di andare di nuovo dai nostri fornitori a chiedere le stesse identiche informazioni e di ricaricarle su un nuovo sistema quindi diciamo che la segregazione del campo di lavoro è davvero fondamentale poi passiamo al lato dell'utilizzo quindi è un onboarding semplificato quindi bisogna fare in modo che l'utilizzo di questo sistema sia semplice e che l'alfabetizzazione di questo sistema sia altrettanto facile e soprattutto che questa formazione venga svolta da una terza parte noi lo facciamo personalmente appunto riguardo alla nostra soluzione ed è giusto così perché non deve essere il brand a fare questo lavoro perché lui svolge attività completamente diverse e non deve perdere il suo focus ovviamente per avere un onboarding semplificato bisogna anche pensare alla tecnologia e alla grafica quindi avere un'interfaccia intuitiva quindi un'interfaccia appunto pensata per essere facile da utilizzare anche da utenti tecnologicamente poco esperti e poco avvezzi anche poi pensare a implementare delle applicazioni usabili anche col telefono per dare quel senso di freschezza di velocità nell'utilizzo e rendere tutto più user friendly quindi diciamo che la concezione in cui viene concepito questo sistema e questo strumento è molto affine a quella di un B2C proprio perché in modo che tutti i player siano in grado di poterlo utilizzare e come ultimo abbiamo le opportunità commerciali perché comunque bisogna fare in modo che il sistema non sia solo un oner appunto ma di anche delle possibilità di ampliare il proprio business qui non ci siamo soffermati nell'introduzione di Andrea però anche noi abbiamo cercato di creare un community network il community network consente appunto di utilizzare gli strumenti dove all'interno appunto essendo un hub si hanno domande offerte quindi più aziende che interagiscono tra di loro e quindi potenzialmente con cui si può insaurare anche una nuova relazione lavorativa con l'ultima slide invece arriviamo al cuore del webinar di oggi quindi il tema è la tracciabilità che è stato un po' anche il nostro goal finale perché appunto noi siamo nati come marketplace poi abbiamo capito che la raccolta del dato è fondamentale e in ultimo che la raccolta del dato doveva venire su tutta l'intera filiera quindi io qui vi ho giusto esposto graficamente due esempi di flussi in realtà ne abbiamo molteplici però partendo appunto dal flusso di sinistra partiamo dal presupposto che sia appunto il brand ad avviare questo flusso con la creazione di un form che racchiude tutti i requisiti da richiedere e da raccogliere dalla propria supply chain quindi partiamo da in questo caso dal confezionista andando a ritroso fino a monte della sua filiera quando il form viene condiviso con il confezionista quest'ultimo è in grado di capire quali informazioni sono di sua diretta competenza e quali invece dovrà appunto andare a richiedere a sua volta ai propri sub fornitori e i sub fornitori potranno a loro volta chiedere informazioni a chi sa ancora più a monte della filiera diciamo che questo flusso avviene comunque quando la materia prima viene acquistata direttamente dal confezionista se invece fosse il brand ad acquistare la materia prima lui si interfaccerebbe direttamente con il fornitore al quale condividerebbe questo form e da lì partirebbe lo stesso iter passando appunto al suo sub fornitore e così via ovviamente il sistema funziona anche come possiamo vedere sulla destra nel caso in cui tutti gli attori coinvolti da monte a valle decidano di iniziare la raccolta di queste informazioni in modo autonomo così da trovarsi pronti e da essere in grado poi di condividere tempestivamente tutte le informazioni richieste quindi dall'attore che si trova più a valle o più a monte dell'intero processo quindi diciamo che noi in base anche alla nostra esperienza e le testimonianze dei nostri clienti abbiamo capito che il cuore la parte che deve rimanere ben delineata e stabile che crea maggiore effort è appunto la raccolta la raccolta del dato per quanto riguarda invece la visibilità e la possibilità di mostrare questi dati all'esterno lascio appunto la parola a EZ Lab per il suo intervento io vi ringrazio per l'attenzione e siamo disponibili per domande e curiosità dopo il webinar o comunque anche in un secondo momento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti